La notte attrice Falmira Cordellazzo, dopo ben 30 anni, si è miracolosamente risvegliata dal coma. Me l'ho passata a finestra, amore mio! Falmira! È un onore conoscerlo, posso fare un selfie? E la macchina fotografica? Non si usa più, si fa tutto con lo smartphone. Può salutare tutti i followers che ci stanno seguendo? Eh, beh, non vedo nessuno. Ho una trovata semplicemente geniale. Quale trovata? Quella del comodo! Vai su Snapchat il fantasmino. Io non so cosa fa fare! E su tutti i social network appare ormai l'hashtag Larry Di Viva. Non l'ho data 20 anni per fare carriera, figurati se la do adesso. Che tristezza questi social! Basta, avete oltrepassato i limiti! Mi raccomando che domani scade il Fashion Aula importantissimo con l'hashtag a TV. Ricordati che oggigiorno non è importante ciò che sei, ma ciò che mostri. Palmira, sei in diretta! No, ora sono su Peter! No, ora sono su Peter! No, ora sono su Peter! Grazie.